ciao ragazzi oggi insieme agli amici di audi l'automobile roma proveremo la vettura che da tutti è considerata la più elegante di tutte le berline tedesche la nuova audi s8 la versione sportiva dell'ammiraglia di quattro anelli le sue prestazioni però possono fare impallidire alcune supercar da 0 a 100 km orari in soltanto 3,8 secondi eleganza lusso e prestazioni queste le tre caratteristiche principali di quest'auto guidarla ti dà la sensazione di massima sicurezza grazie ai tanti sistemi di assistenza alla guida anche se la prudenza del conducente rimarrà sempre il sistema di sicurezza più efficace oggi mi sento proprio comodo e non riesco a scendere da questo gioiello voi se volete provarla vi aspettiamo in concessionaria